Smettiamola con questo luogo comune che i trattori giganti se ne stanno solo in America. Per sfatare questo mito siamo stati ad Anselwinkel in Germania a vedere i nuovi Klass Xerion. Dopo oltre 25 anni di storia il trattore polivalente di Klass si rinnova per l'ennesima volta arrivando oggi alla serie 12 che comprende due pesi massimi. Il 12 590 da 585 cavalli e il 12 650 da 653 cavalli. Direi che in termini di potenza qui ci sono pochi compromessi. Questo grazie all'enorme motore Mercedes-Benz e alla trasmissione continua coordinata da un impianto idraulico veramente d'eccezione che permette di mantenere i givi del motore sempre più bassi possibile. ottenendo il trattore a variazione continua più potente sul mercato e anche un mezzo abbastanza risparmioso sul conto carburante. Sicuramente non sarà passato inosservato lo stile rinnovato di questi modelli. Una rivisitazione delle linee che avremmo abituati a vedere fino ad oggi mantenendo comunque il design singolare dell'Oxerion con ruote isodiametriche, motore anteriore e cabina al centro dei due assi entrambi sterzanti ed equipaggiabili sia con cingoli che con le classiche ruote quelle tonde di gomma, non so se avete presente. E proprio i cingoli sono una versione rimaneggiata dei classici terra-track di class questa volta però rinforzati per garantire le richieste di trazione e di protezione del suolo che si accompagnano a un mezzo così potente e mastodontico. Ovviamente queste sue qualità da golia dei campi si riflettono con un altissimo livello tecnologico e di comfort. In primo luogo la cabina è stata allungata di ben 27 cm sul frontale è enorme, ci si può organizzare dentro una festa letteralmente la più grande nel settore di trattori premium. Ma se la festa non è la vostra massima aspirazione e avete dei campi lunghissimi e stancantissimi sempre dritti potete equipaggiare la cabina con dei comodi poggiapiede. E questo per rilassarvi tra una svolta e l'altra infatti nel lavoro in campo il trattore è praticamente autonomo. Il nuovo Xerion possiede infatti la predisposizione per il protocollo ISOBUS per la comunicazione tra macchina e attrezzo tramite il quale possono essere controllate le sezioni dell'attrezzo stesso che effettivamente lavorano e possono essere applicate logiche di tasso variabile ad esempio concimando di più dove il terreno è meno fertile. Agricoltura 4.0, mica scherzi! E nell'enorme scocca dell'Oxerion ci sta un sacco di altra tecnologia come la guida satellitare e la svolta automatica con diversi sistemi GPS di correzione ed è qui quindi che torna utile il comodo sedile e i poggiapiedi citati prima il trattore della pennica. Anche se in realtà nonostante tutta questa tecnologia l'operatore è comunque indispensabile per gestire al meglio tutta questa potenza e tutta questa mole alti numeri in fatto di motori e di specifiche tecniche che si ripropongono anche sulla pompa idraulica in grado di erogare ben 537 litri al minuto. Un'idrovola che permette di far rendere al massimo il trattore e la sua trasmissione nei contesti più disparati di carico pesante come trainare grandi coltivatori, grandi seminatrici o rimorchi particolarmente oversize e questo non solo qui in Europa ma anche ad esempio nelle paraterie più sperdute dell'America. I driver di sviluppo per questi modelli sono essenzialmente la ricerca di una maggiore redditività ottenuta con un bassissimo consumo di carburante, i bassi costi di manutenzione, il comfort per l'operatore e l'aumento della capacità di trazione grazie al peso ripartito 50-50 alla larga impronta sul terreno e alle norme impianto idraulico. Oltre a ciò si aggiunge un impianto informatico di tutto rispetto come avrete anche intuito finora. Ci sono tutti i sistemi di casa class il Cebis, il Cemos, il C-Motion, il GPS Pilot e anche il monitor Cebis 1200 tutti con la C, la C di Class l'ultimo grande produttore di trattori che mantiene viva la tradizione dei grandi trattori isodiametrici a quattro ruote sterzanti. E anche questa settimana vi ringrazio per l'attenzione. Noi come al solito ci vediamo al mercoledì sera alle 17 con nuovi contenuti del mondo dell'agromeccanica ma se non siete sazi potete controllare anche tutti i nostri altri social Instagram, Facebook, il sito Trattori Web e anche il canale TikTok Dateci un'occhiata, c'è anche il link all'articolo per scoprire di più su quest'Xerion. Ciao!